Una giornata all'insegna del confronto e del dialogo per il rilancio del Partito Democratico, quella che si è svolta sabato scorso nel corso del convegno Il Passo Avanti, promosso dal Circolo Guido Faletra. Un incontro precongressuale al quale sono stati invitati gli esponenti regionali e nazionali, soprattutto giovani di diverse aree, per promuovere un confronto generazionale, mettendo insieme dirigenza di partito e militanti, con l'obiettivo che le vecchie logiche correntistiche, le contraddizioni e le divisioni interne lasciano il passo a una nuova fase di coesione, confronto e costruzione di un partito che sia a servizio della collettività. Ad aprire il convegno i saluti del segretario del Circolo Guido Faletra, Linda Petrantoni e del segretario provinciale del PD, Giuseppe Gallè. L'iniziativa Il Passo Avanti nasce dall'organizzazione di un circolo, del Circolo Faletra, proprio come questo momento di incontro e di confronto precongressuale, proprio funzionale a creare davvero un dibattito, un'elaborazione politica prima della celebrazione del congresso. È funzionale a dare voce, spazio e modo di intervenire proprio alla base, ai militanti, ai simpatizzanti e agli iscritti. Il rapporto di odio e amore, laddove la classe dirigente non riesce a percepire gli umori e i sentimenti, non riesce a costruire una speranza. Oggi c'è un messaggio, una discussione che grazie agli amici democratici di Caltanissetta si sta sviluppando. Si parla di grandi temi, ma si parla anche dell'organizzazione del partito. Se siamo capaci, se la nuova generazione è capace di riempire di contenuti le parole rinnovamento e cambiamento, allora questa generazione, io sono convinto che vincerà le prossime elezioni, ma soprattutto cambierà la Sicilia e cambierà l'Italia. Se questo non avviene e probabilmente continueranno le logiche del passato, allora è chiaro che non facciamo un passo in avanti, ma continuiamo a fare un passo indietro. Questo partito ha bisogno di innovazione, ha bisogno di un ricambio di una classe dirigente e ha bisogno di dare una svolta a questo Paese. Questi eventi, come quello di oggi, sono la dimostrazione che il partito è vivo, che il partito è presente, che c'è la possibilità veramente di cambiare sia il partito che significa anche provare a cambiare questo Paese. Oggi in questo incontro si spendono tanti giovani, una nuova generazione di classe dirigente e noi con loro dobbiamo provare a cambiare, perché oggi siamo giunti a un punto di non ritorno. O si riesce veramente a cambiare questo partito, veramente a cambiare questo Paese, oppure il Partito Democratico, come questa classe dirigente è destinata a passare mano ad altri.